Ancora morti sulle strade della provincia di Alessandria. Nella notte, in questo punto della provinciale che da sale e porta a Pieve del Cairo, nei pressi dell'abitato d'isola Sant'Antonio, in un incidente autonomo, hanno perso la vita due giovani, Salvatore Vitale, 26 anni, residente a Pieve del Cairo, e la commessa Rosi Reale, di 28 anni, abitante a Mezzanabigli, in provincia di Pavia. I due stavano tornando da Tortona, dopo aver trascorso una serata insieme ad amici e parenti. Sulla strada di casa, l'auto, condotta da Salvatore Vitale, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Serrabale-Scrivia, è iniziata a sbandare. E dopo qualche metro è finita, prima contro il guardrail, poi nella cunetta. L'urto è stato violentissimo, la vettura si è quasi disintegrata, ingastrando fra le lamere contorte in un abbraccio mortale i due giovani. Alcuni automobilisti di passaggio che avevano assistito all'incidente hanno subito chiesto l'intervento del 118. Quando l'equipometrica è giunta sul posto, per Salvatore Vitale e Rosi Reale non c'era più nulla da fare, erano morti sul colpo. A liberare i corpi senza vita dei due giovani sono stati i vigili del fuoco di Alessandria e di Tortona. La polizia stradale, diretta dal sostituto commissario Bruno Pellegrino, dopo gli accertamenti effettuati nella notte, è tornata questa mattina sul posto del mortale incidente per il completamento dei rilievi fotoplanimetici e quello che nel rimasto dell'auto è stato posto sotto sequestro.